Calcio d'inizio Sono di una sfera, peso di procura chimica, po' teo Poi ci abbattare i conti a dismisura e poi Treviso al final, il mitiniero è sotto protezione Giorna la in chiara simulazione Calcio Domingo Road Domingo Road, Domingo Road Domingo Road, Domingo Road Domingo Road, Domingo Road La prima volta è stata la prima giusta, non so se siamo pronti, ma credo che abbiamo fatto un buon lavoro. È stato ovvio che inizia da Berlino e Hamburg, perché Merade sono le due migliori siti per giocare e Germania è stato il primo paese che ci adottò e ci lasciano giocare per molti anni a questo livello. Non è un set davvero buon tipo di giocare, ma meglio, credo che noi giochiamo per due ore. Per i Hamburg, le persone sono incredibili e ci sono molte persone, quindi speriamo di raggiungere le persone che possibili e ci sono divertenti. E in ultima domanda, questa è una sorpresa. Dopo 15 anni, credo che vogliamo andare in giro e in febriere fare un nuovo album. Ci saranno in 2020, magari in ottobre, magari in novembre, ma vogliamo andare in giro. Ciao! 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 Domingo Road Domingo Road Domingo Road Domingo Road Domingo Road